ecco la notizia di cui parlano in questi giorni quasi tutti i giornali è quella che riguarda i 12 compreso l'allenatore 13 ragazzi prigionieri al cuore della terra in thailandia ecco qua dice la repubblica thailandia fuori altri quattro ragazzi operazione sospesa per oggi salvi in molto ecco ma mi fermo un attimo dunque in 12 guidati dal loro allenatore dopo aver giocato la partita scendono giocando altro in questa in questi cunicoli fino come detto prima al cuore della terra cioè quattro chilometri sottoterra tra cunicoli bui difficoltosi e soprattutto che potevano essere invasi o coperti o seppelliti tra virgolette dall'acqua considerato il periodo dei monsoni come ogni anno in india in thailandia e via in quelle parti asiatiche ecco il discorso è questo semplice come dico spesso le notizie di cronaca non solo insegnano qualcosa di importante nel per per vivere meglio o per vivere ecco usare la propria testa sì perché di questi 12 ragazzi tra gli 11 16 anni uno almeno avesse usato la testa avrebbe fatto capire l'allenatore che stavano andando in una situazione estremamente pericolosa man mano che camminavano sotto terra ovviamente tra quei cunicoli che sarebbero potuti diventare la loro tomba e in effetti è così perché loro sono stati salvati o comunque l'allarme sono lanciato da esploratori che li hanno visti da sotto e hanno per cui dato l'allarme risalendo poi in superficie ecco questa notizia insegna la cosa più importante per chiunque al mondo bisogna usare la propria testa per non finire sepolti vivi per colpa di qualche stupido e aggiungo forse in base ai dati appunto riferiti dagli articoli sembra quasi che l'allenatore avesse voglia di morire perché volesse suicidarsi in compagnia sì come avvenuto con quel pilota di aereo francese che si è schiantato sulle alpi svizzero qualcosa del genere con tutti quelli che trasportava ecco perché dico questo non l'affermo ma è una ipotesi valida in quanto l'allenatore più grande 25 anni mi ha portati in una situazione estrema a 4 chilometri sotto terra ben sapendo come detto prima nel pericolo della lagamenti per via delle piogge monsoniche di questo periodo e soprattutto se non ci fossero stati quegli esploratori nessuno mai avrebbe saputo dove erano finiti ecco cosa pensasse l'allenatore portando i ragazzi giù a quella profondità tanto è vero che hanno detto che ci volevano 11 ore per andare e tornare come riferiscono gli articoli nessuno lo sa solo l'allenatore tant'è che si sente in colpa e dà il suo mangiare agli altri ed è la persona ragazzo più debole come dicono riferiscono i giornali che c'è sotto ancora la in quella grotta ma comunque sia il discorso principale che si vince dall'articolo e questo se i ragazzi avessero avuto la capacità di usare la propria testa per ragionare pensare questa situazione tragica di cui parla tutto il mondo non sarebbe mai avvenuta e soprattutto ora anche se si salveranno tutti avranno o vivranno quell'incubo continuamente ecco l'importanza di usare la propria testa così come ho parlato già in un altro video che andiamo a vedere ecco il video di cui stavo parlando e questo apri gli occhi per salvarti da una tremenda fine ecco questo riguarda tutti sì come racconta nel video potremmo finire sprofondati nelle vici della terra e non avremo più la possibilità di salvarci perché pur sapendo non abbiamo fatto nulla per risalire verso la luce ecco le due righe che scrivo sotto il video dico apri gli occhi della mente per vedere quella verità che è stata che c'è stata nascosta impedendoci di rimediare al male fatto ai profeti a gesù tutti vilmente uccisi dagli uomini ognuno può ragionare e deve ragionare con la sua testa per capire sì perché non bisogna dimenticare come evidenza attraverso questo articolo che parla di un miliardario san miliardario cinese che così improvvisamente improvvisamente muore nel modo più banale e scivolato mentre cercava di farsi una foto ecco entrando nell'articolo pubblicato qualche giorno fare quella della sera muore per farsi una foto la storia del cinese a capo del colosso hna e qua racconta come avvenuto non da parte dell'azienda ma la parte dei gendarmi francesi che hanno raccontato che lo stramiliardario cinese in villeggiatura comunque di passaggio a parigi ha cercato di farsi una foto la piccandosi su un posto dove non specifico è scivolato ed è morto ecco come per dire la nostra vita la in mano destino o poveri o ricchi non cambia niente ecco perché usare la testa ci aiuta a vivere meglio e di più